Per combattere il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole medie, il Comune di Montemurlo ha chiesto aiuto all'Associazione Contra IUS, formata da un pool di avvocati che incontreranno i ragazzi e i genitori in un calendario di eventi che durerà fino alla prossima primavera. Non solo innovativi docenti, ma anche la metodologia, che prevede di individuare all'interno delle otto classi coinvolte 16 ragazzi che diventeranno formatori per i compagni più piccoli. È da anni che il Comune è impegnato in progetti sulla lotta contro il bullismo, quindi anche quest'anno abbiamo proposto alla scuola una nuova progettualità. È importante contrastare atti di violenza che sfociano poi nel bullismo, perché anche comunque si è visto nei passati periodi, sono accaduti degli avvenimenti anche nel nostro territorio. Lezioni in classe, incontri con i genitori, ma anche laboratori interattivi, che hanno come filo comune la prevenzione e la formazione. Quando il guaio ormai è combinato si va dall'avvocato, ma l'avvocato può servire anche a spiegare le regole prima che comunque poi il danno sia perpetrato. Quindi se io insegno ai nostri ragazzi di oggi quelle che sono le regole base dell'educazione civica, ma anche poi quelle che sono le regole che stanno alla base di un progetto di responsabilità di civile e penale, i ragazzi rispondono molto empaticamente a questo tipo di invito. Del resto, i rati in cui i ragazzi al compimento del quattordicesimo anno di età possono incorrere sono tanti, dalla minaccia al ricatto agli atti persecutori. Alla responsabilità dei genitori e anche poi di chi vigila su questi ragazzi quando sono a scuola, quindi gli insegnanti e tutti quelloro che fanno parte del personale ATA, lì rientriamo anche nel mondo della responsabilità civile.